Pace e bene a tutti i nostri telespettatori. I titoli di questa edizione del telegiornale sono i seguenti. Papa Francesco invia doni e poveri di Roma. Tramite il suo elemosiniere il pontificio offre una piccola carezza e un biglietto di auguri pasquali agli emarginati. È in atto una persecuzione e il nostro silenzio è complice. Alla via Crucis al Colosseo Papa Francesco prega per i cristiani trucidati e chiede perdono alle vittime di abusi. Perché i cristiani vengono perseguitati? La risposta è nell'Apocalisse. C'è chi nega Dio perché se esistesse non permetterebbe tante atrocità. Chi invece le subisce sperimenta il suo aiuto e la sua presenza. Infine le notizie di casa nostra e gli avvisi per coloro che frequentano il nostro santuario. Passiamo alla prima notizia. Papa Francesco invia doni e poveri di Roma. Tramite il suo elemosiniere il pontificio offre una piccola carezza e un biglietto di auguri pasquali agli emarginati. La Radio Vaticana informa che la sera del Venerdì Santo, negli stessi momenti in cui si stava svolgendo la via Crucis, l'elemosiniere del Papa, l'arcivescovo Corrado Krajewski, ha distribuito ai poveri di Roma un segno di vicinanza da parte del Santo Padre. Si tratta del secondo anno consecutivo. A ricevere in dono una piccola carezza del Papa da parte dell'elemosiniere sono stati circa 300 uomini e donne che hanno ricevuto una busta contenente un biglietto di auguri pasquali, l'immagine del Papa e una somma di denaro. La gioia è fatta di sorpresa, commozione e euforia. In molti, riferisce Radio Vaticana, hanno baciato con devozione la foto di Francesco, chiedendo di ringraziarlo personalmente. Altri erano stupiti del suo pensiero e correvano da chi non aveva ancora ricevuto il dono per informarli del regalo del Papa. Tanti altri hanno nascosto la somma sotto la camicia per custodire il prezioso tesoro. In tutte le parti di Roma, soprattutto nelle stazioni e vicino a San Pietro, la stessa scena si è ripetuta fino alla mezzanotte inoltrata. Seguendo Cristo sulla via della carità, noi seminiamo speranza. Mai le parole del Papa in quella notte santa sono state così sentite e vere. Passiamo alla seconda notizia. È in atto una persecuzione e il nostro silenzio è complice. Alla via Crucis al Colosseo, Francesco prega per i cristiani trucidati e chiede perdono alle vittime di abusi. Le parole del Papa sono scandite con forte emozione, mai più stragi di cristiani nel silenzio complice. Il culmine della sofferta meditazione del Papa è il pensiero rivolto ai cristiani perseguitati e crucifissi sotto i nostri occhi e spesso con il nostro silenzio complice. In te venduto e crucifisso, ha detto il Papa, vediamo i nostri consueti tradimenti e quotidiana infedeltà. Nel tuo viso sfigurato vediamo la brutalità dei nostri peccati, la crudeltà del nostro cuore e azioni. Vediamo tutti gli abbandonati della società, i corpi dei nostri fratelli abbandonati lungo le strade, sfigurati dalla nostra negligenza e indifferenza. Prega Papa Francesco al termine della via Crucis e per il venerdì santo il Pontefice chiede grande attenzione alla testimonianza delle donne e rivolge un'umile richiesta di perdono alle vittime di abusi. Prima di recarsi al Colosseo, il Pontefice nel giorno della Passione di Cristo ha inviato un messaggio di cordoglio e solidarietà per coloro che domenica scorsa ha definito i martiri di oggi e ha condannato come atto di brutalità senza senso la strage di studenti cristiani che si è verificata in Kenya. Passiamo alla prossima notizia. Perché i cristiani vengono perseguitati? La risposta è nell'Apocalisse. C'è chi nega Dio perché se esistesse non permetterebbe tante atrocità, chi invece le subisce sperimenta il suo aiuto e la sua presenza. Riflettere sui martiri subiti dai nostri fratelli aiuta tanti di noi a uscire dall'inganno di chi crede che per essere i cristiani sia sufficiente andare a messa e la domenica e fare l'elemosina a qualche barbone. Un cristiano è veramente tale e se è perseguitato, hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se non è perseguitato è perché si è adattato alla mentalità di questo mondo e non è più né sale né lievito e ha perso quindi ogni sapore. Tante sono le forme di martirio e non tutte richiedono un tributo di sangue. C'è anche un martirio bianco di chi viene deriso o insultato nella propria famiglia perché è credente e vive la propria esistenza obbidendo gli insegnamenti della chiesa. Martire significa testimone e ogni cristiano è chiamato a testimoniare con la propria vita prima che con la parola che è Cristo il Signore e che dopo la sua morte e risurrezione vive oggi in ogni cristiano cioè in ogni membro del suo corpo che è la chiesa. Questa testimonianza è stata data dai fratelli e dalle sorelle che sono stati uccisi senza avere alcuna colpa. È da sottolineare che nel mondo più dell'80% delle persecuzioni religiose riguardano i cristiani e bisogna chiedersi perché questo accada dal momento che i cristiani vivono ovunque pacificamente a differenza di quanto avviene in altre realtà religiose come le crone che recenti ampiamente dimostrano. La risposta a questa domanda ci viene data dalla parola di Dio infatti così è scritto nell'Apocalisse. Quando il drago si vide precipitato sulla terra si avventò contro la donna che aveva partorito il figlio maschio ma furono date alla donna le due ali della grande aquila per volare nel deserto verso il rifugio preparato per lei per esservi nutrita per un tempo due tempi e la metà di un tempo lontano dal serpente. Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro alla donna per farla travolgere dalle sue acque ma la terra venne in soccorso alla donna aprendo una voragine e inghiotendo il fiume che il aveva vomitato dalla propria bocca. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. Il diavolo ossia il drago si era illuso di avere distrutto Gesù e la sua missione con la crocifissione e vistovi sconfitto fa guerra in tutto il mondo alla sua chiesa rappresentata dalla donna e i suoi seguaci ossia la sua discendenza e oggi approfitta del tempo a lui favorevole perché l'Europa che era stata la culla del cristianesimo e il baluardo nei confronti dell'islam ha apostatato. Oggi sono i cristiani umili e per lo più sconosciuti che portano pazientemente la loro croce e testimoniano che Cristo è risorto nelle loro vite e da loro la forza di amare i nemici e di non rispondere al male con il male. Subendo anche la morte può rimanere fedeli al loro salvatore. Passiamo alle notizie di casa nostra. La settimana santa con i suoi sacri riti attira sempre migliaia di persone nella nostra chiesa di Cagliari soprattutto nei giorni del triduo santo giovedì venerdì e sabato. Giovedì santo la santa messa per la lavanda dei piedi e 12 apostoli di Cristo è stata presieduta dal padre provinciale padre Giovanni Azzori. A seguire è stata fatta un'ora di adorazione eucaristica nella cappella della reposizione. Venerdì santo è stata celebrata la passione del Signore e l'adorazione alla santa croce e come ogni anno numerosi fedeli si sono recati nel giardino del convento per la tradizionale via crucis notturna. Sabato santo si è celebrata la veglia pasquale presieduta sempre dal padre provinciale padre Giovanni Azzori con il rito della benedizione del fuoco all'ingresso del santuario. Durante la settimana santa un fiume di persone provenienti da tante parti della città del suo interland si è riversato nel nostro santuario per il sacramento della riconciliazione e grazie alla presenza di due frati e due diocesani provenienti da diverse parti del mondo è stato possibile accontentare numerosi fedeli. Infine gli avvisi per coloro che frequentano il nostro santuario. Ogni giovedì nel nostro santuario ci sarà la tradizionale adorazione eucaristica del Santissimo Sacramento esposto continuativamente tutto il giorno dalle ore 9 e 30 alle ore 17 per chiedere al Signore il dono di numerosi e santi sacerdoti religiosi per la sua chiesa e in particolare per il nostro ordine. Il nostro Tg è terminato e noi vi salutiamo con il consueto saluto francescano. Pace e bene. Grazie a tutti.